Un saluto dal Tg della mobilità, da oggi e sino al 1 ottobre nella fascia oraria 7-18 sono in programma lavori di rifacimento del manto stradale su Via Chiana, nel tratto compreso tra Corso Trieste e Via Fucino, previsto inoltre il divieto di transito ai veicoli a venti lunghezza superiore ai 7,5 metri nel tratto direzione verso da Via Tagliamento a Via Reno. Le vetture della linea 168 provenienti da Largo Maresciallo Diaz sono deviate da Via Chiana su Via Sebino, Piazza Verbano, Piazza San Saturnino, Via Piediluco, Via Bisagno e Piazza Istria, temporaneamente soppresse, tre fermate. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.